Ciao a tutti ragazzi, io sono Anna e io sono Giada e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo come ieri che sorteggeremo un bigliettino e vedremo che uovo dovremo aprire. Tipo, lì abbiamo trovato molte cose. Prima di cominciare vi ricordiamo di mettere un like alla pagina e un like al video. Ok, cominciamo. E iscrivervi al canale. Ok, dovrò aprire anche io perché non voglio tirare il quadro. No, io le abbiamo perso insieme. Lilybug. Ok, io prendo il mio. Io prendo il mio. Lilybug. Ragazzi, già l'ho preso. Non si vede, Lilybug, facciamo vedere, ok. Mettilo qua. Calimero già l'abbiamo aperto ieri, quindi puoi. Eh, giusto. Non hai dimenticato a togliere il bigliettino. Vediamo cosa ti esce. Penisce Ladybug. Principessa è riuscito. Ok. Allora, un attimino. Voi parlate che io prendo le uova. Ok, allora, allora. Grazie a tutti.